Sei un fotografo alle prime armi e stai cercando di sviluppare il tuo corredo fotografico ma ti trovi imprigionato in una selva di prezzi e di modelli da cui non riesci facilmente a districarti? Nel corso del video di oggi vado a svelarti un segreto che ti aiuterà a scegliere la direzione giusta e una delle più grandi trappole in cui cascano tutti i principianti, tutti quelli che si affacciano al mondo fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni e quindi gli errori di cui vi parlo in questi video li ho fatti io per primo eh, quindi non è che vi vado a dire siete delle capre, sbagliate tutto, vi sto dicendo il contrario, vi sto dicendo io sono stato un caprone, ho messo il piede in fallo, ho fatto determinati errori, sono caduto e mi sono anche fatto male e quindi sono qui a fare questo contenuto affinché meno gente possibile commetta i miei stessi passi falsi. Per non perdere altri contenuti interessanti come questo io vi invito innanzitutto a iscrivervi al canale e lasciate anche un like a questo video che insomma male non mi fa. Andiamo a incominciare. Che cosa succede nel momento in cui cominciamo ad approcciare la fotografia, che sia per professione o che sia per puro hobby eh, che cosa succede? Ovviamente prendiamo la nostra prima fotocamera, probabilmente non sarà particolarmente costosa, cominciamo a fare le nostre prime cose, che siano lavori, lavoretti o che sia semplicemente fotografarci gli alluci o fare dei bellissimi ritratti della zia Ernesta mentre lava i piatti, non ha molta importanza. Cominciamo a fare le nostre prime foto. Facciamo delle foto in contesti di vita comune, perché siamo delle persone comuni magari, non siamo degli influencer che hanno a disposizione la villa sul lago con la barca, quindi facciamo delle foto in contesti comuni. Una delle prime cose che ci capita è di renderci conto che le fotografie con poca luce non vengono particolarmente bene, o che le fotografie in controluce non vengono particolarmente bene, o che le fotografie in movimento magari vengono sfocate, o che le foto di sera vengono mosse perché i tempi di posa si allungano. Queste sono tutte cose che ci portano a pensare, ok, magari io sono acerbo, però certo che questa fotocamera che ho comprato, che costava poco, forse non mi sta aiutando particolarmente. Ed è vero ragazzi, è vero, perché se noi siamo neofiti, abbiamo appena cominciato, una macchina entry level sicuramente ci avvantaggia fino a un certo punto, perché avrà magari la messa a fuoco che funziona, le macchine di oggi, soprattutto le mirrorless, hanno delle messe a fuoco incredibili. Io sto provando Canon EOS R10 che mi è stata mandata dalla casa, è una macchina fantastica per quello che costa e per quello che offre, secondo me è veramente, veramente bella. È la entry level perfetta, nel senso che è una entry level con cui puoi anche lavorare, ci puoi fare tutto, con delle limitazioni, insomma, però in ogni caso arriva un momento in cui ti rendi conto che quella strumentazione non ti sta dando abbastanza e può essere colpa dell'ottica se non è colpa della macchina fotografica in sé, quindi devi cominciare a fare dei ragionamenti e dire va bene, io sto cominciando a fare foto, ma io voglio fare foto solo di sera, a me piace la sera, allora che cosa devo fare? Se voglio avere dei buoni risultati la sera, devo prendermi un treppiede e prendermi delle ottiche più luminose e stiamo cominciando a comprare roba. Dopodiché che cosa succede? Magari ci viene voglia di fare astrofotografia, quindi diciamo ok, io ho preso, come facciamo tutti, ho preso il 50 mm perché è ottica meno costosa, più luminosa che c'era, ho preso il 50 mm per fare astrofotografia, non mi piace, non va bene, allora dovevo comprarmi un grandangolo luminoso e compri altra roba e poi ti compri l'astroinseguitore, poi lo usi due volte, lo metti lì e non lo usi mai più. Dopodiché che cosa succede? Ti impallini con la macro, attenzione sono cose che sono successe a me queste, non sto accusando voi, ti impallini con la macro e allora cosa succede? Non riesco a farla la macro, compriamo un'ottica macro, però col treppiede mi trovo male, compriamo la slitta per fare la macro, però non riesco ad allineare bene le immagini, compriamo il softwareino per allineare le immagini, insomma nel momento in cui ci affacciamo a questo mondo ci sono così tante cose che non sappiamo e che non sappiamo fare che ci viene voglia di farle tutte. Perché vi dico che questo è un po' un errore, un po' una trappola, perché, e vi dico errore che ho fatto io e cose che ho scoperto nel corso della vita, nel corso della mia vita io mi sono reso conto che più andavo a complicare la situazione e meno queste foto mi piacevano. Può essere un gioco divertentissimo, è un viaggio meraviglioso alla scoperta di tecnologie, componenti, cose edificanti che ci fanno divertire, è un gioco evoluto volendo e io mi sono divertito da matti a fare tutte queste cose e vi invito a non farvi scoraggiare da quello che vi dico io, provateci, spendete i vostri soldi come meglio reputate, compratevi quello che volete se vi fa felici. Però tenete sempre a mente una cosa, nel momento in cui siamo neofiti, quindi abbiamo appena cominciato, non sappiamo fare niente e quindi ci viene voglia di fare via via sempre più cose, ci viene voglia di provare quel tipo di fotografia, poi un altro, poi un altro, poi un altro e per ogni cosa finisce che compriamo delle cose. Io vi assicuro che arriva un certo punto in cui direte va bene ho comprato tutta questa roba, adesso io non la uso più perché mi sono ritrovato che uso solo il 50 mm, io uso solo l'85 mm perché tutta quell'esperienza che è servita è indubbiamente, ci ha aperto gli occhi su molte cose, però ci porta secondo me inevitabilmente a una sintesi. Un bel momento uno dice tutta questa roba adesso io la metto via perché mi è servita per capire che non ne ho bisogno, mi è servita per capire che potevo realizzare quello che veramente mi piace, quindi alla fine a nessuno piace tutto, cioè non possiamo pensare di un giorno di fare una sfilata di moda, il giorno dopo fotografare le giraffe al tramonto in Africa, il giorno dopo ancora fotografare una cometa, il giorno dopo ancora fotografia subacqua, cioè nessuno fa così, più o meno ti direzioni verso un qualcosa che poi prosegue nel tempo, nessuno purtroppo ha le risorse più che altro per avere questa varietà di temi da fotografare giorno dopo giorno, quindi secondo me si va verso una direzione che pian piano si trova e ci si rende conto di quante cose abbiamo comprato che non usiamo e che non useremo mai più, perché ci sono servite per arrivare a una sintesi e per capire che una cosa funziona quando è semplice, una cosa funziona di più quando ci abbiamo messo dentro meno roba, quando abbiamo usato meno accrocchi, meno strumentazione, meno robe strane, la semplicità molte volte premia. Ovviamente a quel punto sapremo che cosa ci serve, se vogliamo fare una posa di sei minuti sappiamo che ci servono un treppiede, un filtro e quindi qualcosa servirà sempre ovviamente, però se dobbiamo fare una posa lunga sappiamo che ci servirà un treppiede, un filtro, non che ci serve una fotocamera nuova, un obiettivo nuovo. Questo voglio dire, gli acquisti più costosi che facciamo spesso e volentieri sono dettati semplicemente dal fatto che non sappiamo fare qualcosa e non sapendola fare crediamo di poter sopperire alle nostre mancanze comprando qualcosa. Purtroppo quasi mai funziona. Vi faccio l'esempio dell'amatore con una fotocamera prestazionale, con un'ammiraglia o simile. Se io metto in mano una macchina di quel tipo a un amatore, se la usa in automatico, magari avrà, anzi probabilmente avrà degli ottimi risultati perché una macchina del genere usata full automatic è una macchina che fa le stesse foto della entry level identiche perché sei in automatico, quindi è buttata lì la foto. La macchina scatta, ti restituisce un risultato automatico, però la grana della foto, i colori saranno migliori perché una macchina che costa 10 volte di più, pensata per i professionisti, ti dà un file che è molto più bello. Quindi in automatico tieni volendo delle foto migliori, però un amatore non può spendere 14.000 euro per il suo primo corredo, quindi è impensabile che si vada a comprare una cosa del genere. Sarebbe anche sbagliato, sarebbe sbagliatissimo. Ne ho anche parlato in un video lungo che vi invito ad andare a recuperare. Allo stesso modo un amatore che comincia con una macchina, chiamiamola pure scarsina, un entry level magari è scarsina, però gli serve per capire come si lavora, per capire come si fanno determinate cose. Con molte macchine di oggi noi le prendiamo in mano, queste macchine fanno tutto in automatico e ci danno l'illusione che vada bene sempre, che vada bene così. Non è vero. O meglio, le macchine di oggi ci permettono di lavorare sempre, ci portano a casa sempre comunque la foto, però ci portano anche a lavorare male, ci portano a non curare l'illuminazione, a non curare la composizione, a non curare determinati aspetti che una volta erano cruciali perché una volta se non li curavi non veniva niente. Con le macchine di una volta erano un po' più gnocche, un po' più difficili da usare, meno friendly. Non veniva fuori la foto se non prendevi tutta una serie di precauzioni, non facevi determinati step. Per questo motivo vi dico, cerchiamo di non cascare in questa trappola. Non crediate di dover comprare continuamente delle cose per crescere a livello fotografico. Aiuta, è piacevole, è sicuramente edificante, ci sprona a fare di meglio. A me molto spesso fare un acquisto ha spronato a dare di più perché ho detto, va bene, ho comprato sta macchina impegnativa, adesso devo impegnarmi per farla fruttare. Può essere un impegno che prendiamo con noi stessi, però non crediate di dover comprare roba per migliorare perché questo è quello che il marketing vuole farvi credere, ma spesso e volentieri non è così e spesso e volentieri è controproducente ed è una trappola perché da un lato vi fa spendere soldi e dall'altro lato vi porta continuamente a girare in tondo e dire ok, ho imparato quella cosa, ho comprato quella roba lì, adesso voglio fare quest'altra cosa, devo spendere degli altri soldi per imparare a fare quest'altra roba qua. Non è detto. Ok, vogliamo fare gli assaggiatori, vogliamo imparare un po' di tutto, però cerchiamo di capire se c'è un qualcosa a cui vogliamo dare la prevalenza perché se abbiamo preso la nostra macchina fotografica per fotografare i nostri bambini, secondo me è inutile a un certo punto che ci prendiamo i trigger con 50 flash esterni, 200 cavalletti, tutti diversi, il monopiede e i filtri, cioè l'abbiamo presa per fare una cosa specifica e probabilmente viene già bene con la fotocamera kit. Quindi cerchiamo di trarre il massimo da quello che abbiamo, non facciamoci infinocchiare dal marketing, cerchiamo di capire come sfruttare al meglio quello che abbiamo già prima di comprare altre cose perché spesso e volentieri compriamo roba semplicemente per pigrizia. Ve lo dice uno che è pigrissimo, io se posso comprare una componente in più e spendere dei soldi perché poi mi fa risparmiare tempo, lo faccio. Però è una scelta consapevole, so esattamente cosa sto, dopo tanti errori che ho fatto, so esattamente cosa sto comprando e quanto vale per me il tempo che mi sta facendo risparmiare. Questo è un video un po' diverso dal solito, vuole essere un consiglio, incoraggiamento, ma anche un video per evitare di prendere facciate con degli acquisti sbagliati per tutti quelli che si stanno affacciando a questo meraviglioso hobby, professione o quello che volete voi. Amici, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale perché arriveranno altri argomenti più edificanti di questo, non ve lo nascondo, per cui il bottone è subito qui sotto, lasciate anche un like a questo video, voi non ve ne accorgete ma mi date una grossa mano. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.